Non fa parte di questa associazione. Posso perché su questa cosa ho presentato un'interrogazione parlamentare. Quindi voglio parlare il meno possibile. Però dico una cosa, Gonia Mediatica? Qui noi abbiamo il direttore di un ente dello Stato che dà un contributo a un'associazione dove lui è iscritto. Ma dove succede una cosa del genere? Si doveva dimettere immediatamente. Quello è il motivo per cui lui si deve dimettere. 200.000 soci abbiamo noi. Questo è il motivo per cui se io presiedo un ente dello Stato che dà anche solo un euro a quell'associazione, quell'associazione non deve essere l'associazione alla quale io sono iscritto. Almeno per un minimo di dignità nei confronti di tutti gli altri cittadini italiani. Prima cosa. Seconda cosa. Ma deve dire velocissimo, davvero un tassativo. È impensabile che io dia dei soldi dello Stato italiano, anche se non è, anche se non è stato fatto niente contro la legge, a quello che abbiamo visto. Ma questo è falso. A quello che abbiamo visto. Ad associazioni che fanno quello che abbiamo visto. Quei soldi non vanno a quello. Io voglio evitare che ci sia un'associazione che vanno nelle scuole e insegnano a mio figlio quello che abbiamo visto. Quei soldi non vanno a quello che abbiamo visto.